E ora vi stupirà con gli aspetti speciali. Una presentazione così mi mette già in difficoltà, ma effettivamente tre entità da ringraziare. Dico grazie alla parte istituzionale, quindi direttore generale allo Sanugenti, Maccari, c'è tutto quello che è da questa parte. Devo ringraziare poi quella parte che qui invece non c'è, non si vede, che invece ha lavorato. La segreteria, nascosta, quello che non si vede. Perché essere davanti a voi è bello e mi prendono anche i meriti, anche voi che è bello, è la terza entità da ringraziare, siete voi perché tutto questo ambiente vuoto sarebbe imbarazzante. Però appunto ricordiamoci che c'è anche chi non c'è e chi ha lavorato. Allora, il dossier form attivo nasce perché la provocazione è questa, ma che cosa attiva? Allora, lo dice una legge del Settecento, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Allora, cos'è che due pezzi di legno con un camino generano un fuoco? Ma che cos'è che mi dà il fuoco? Atmosfera, ma soprattutto calore, quindi genero delle energie che non ci sono. Ecco cos'è il dossier formativo, deve attivare delle energie, esattamente come qua. Metto una piccola T dove c'è formativo e diventa attivo e genera una cascata di situazioni che non prevedevo. Oppure metto un bicchiere davanti a delle direzioni, cambio di colpo la direzione delle frecce. Allora potrebbe essere, ma cos'è, è un cambio di prospettiva? Sì, lo dice Shakespeare che ci abitua a dire essere o non essere, ma soprattutto fatti una domanda. E qual è la domanda? L'ICM è un obbligo o una responsabilità? Perché chi di noi è qui e fa formazione, l'ha sempre fatta e non gli interessa i crediti. Chi non ha fatto formazione, non sta facendo formazione e non fa crediti, anzi dice ma che obbligo. Quindi forse in realtà l'ICM ci pone di fronte a questa domanda. E l'ICM è questo? Dio mio no. No, no grazie, non va bene, non mi piace. E quindi ci lamentiamo. Perché l'ICM dice ma noi non abbiamo bisogno dell'ICM. E continuiamo a parlare male dell'ICM. Lo dobbiamo fare, abbiamo anche investito delle risorse economiche, magari siamo anche provider, quindi abbiamo investito, ma ci lamentiamo. Lamentarselo non è una strategia. Infatti chi prende la bicicletta lo sa che se la prendi pedali e non ti devi lamentare. Se no non prendi la bicicletta, vai a piedi, ma è un investimento. Allora torniamo sempre a Shakespeare. Ma l'ICM lo subisci o lo attivi? Il dossier si subisce o si attiva? È un obbligo gelido perché dice ma a me cosa interessa? Cosa mi dà? O ti attiva le motivazioni. E guardando le parole, se voi prendete la parola motivazione, la capovolgete, diventa azione che dà un motivo. Vabbè, si è facile da capire. E la parola responsabilità? Se vado a scavare un po' e trovo che responsabilità, la divido in due, diventa abilità a dare risposte. Allora, chi meglio, vedo tante donne in sala, probabilmente anche tante mamme. Chi meglio di una mamma dice che la cosa più difficile per una famiglia è dare le risposte. Mamma, cosa devo fare? Mamma, cosa mi metto? Mamma, cosa succede? È la mamma che dà le risposte, non il papà. E questo cosa vuol dire? Che la responsabilità è molto di più della parola, beh, sono una persona responsabile. No, tu devi dare risposte. Presuppone che qualcuno faccia le domande. Chi è che le fa le domande? Più o meno il paziente, più o meno l'interlocutore a cui va l'ICM, il settore sanitario. Quindi è molto più profonda la parola responsabilità. Poi potremmo anche dire che tutte le parole importanti sono femmina. La coerenza, la fedeltà, la virtù, la libertà. Casualmente la lingua italiana ha privilegiato la femmina. Un applauso, ragazze. Avevo fatto il conto che era facile farvi fare l'applauso. Siete qui. Quindi questa l'avevo già. Però guardate che il maschile invece è l'obbligo. Obbligo. Ma cosa vuol dire obbligo? Dividiamo la parola. Il latino vuol dire lego. Facile. Ma obb vuol dire metto davanti un vincolo. Questa parola, lego obb, il latino vuol dire metto un vincolo davanti a te. Cioè quindi ti lego, sei obbligato dall'ICM, ti metti la camicia di forza o indossi il camice. Camicia e camice. C'è solo una parola. Che cosa cambia? Pochissimo. Camicia di forza o camice. Allora l'obbligo è impersonale. Rosso, verde, giallo. Sostanzialmente siamo tutti uguali davanti a un semaforo. Non è che dice a te che ti chiami Stefano ti do rosso. O a te che ti chiami Guido. Federica, guarda che... No. È impersonale. Invece la responsabilità è personale. Io non so se questa signora è una mamma o una nonna, però sta spostando il cappello alla bambina piccola perché c'è sole, c'è mare, fa caldo. Sicuramente sta spostando il cappello perché comunque il sole sulla testa di un bambino fa male. E l'altra sorellina che guarda noi, sono convinto che se la bambina mette in bocca della sabbia, le dice no non farlo, interviene. E' la responsabilità che non è l'obbligo. Ecco che cos'è la responsabilità. Un liberare relazioni. E in pratica qui è la storia d'amore. Punto. Tra formazione e aggiornamento. Se non si amano queste due parole, non ci sarà mai lo scatto. Perché io dico ad una mamma, senti, alla mattina hai l'obbligo di amare tua figlia o la responsabilità di educarla cambia tutto. Ecco che cos'è la responsabilità. Cercare soluzioni. Il bambino dice mamma mi fa male, cosa mi dai? Basta mettere un po' di pomata e già sorride. Non ha fatto niente la pomata, ma è una risposta ad una domanda. L'obbligo è solitario. Cioè l'obbligo è solo. Cioè è solo un obbligo. Non mi scatena niente, lo devo fare. Mi imbriglia, mi appesantisce. La responsabilità invece implica un rapporto. Perché se io rispondo qualcuno mi fa una domanda. Probabilmente è il mio paziente. Ma torniamo sempre lì. È la fusione di due parole. Una maschile e una femminile. Generalmente formazione a cui non chiedo l'età. È una donna. Ma dico che l'aggiornamento qualche anno più giovane è sempre. Perché deve essere così. L'obbligo non è pietà. Ti dice se non lo fai ti do la multa. Ti sanziono. No, la multa no. Ho paura della sanzione. Cominciamo a parlare di sanzione? Perché questo scatenerebbe allora faccio ECM? Al contrario, la responsabilità si preoccupa. Ti dà una mano. Non voglio dire ti dai bonus. Però una mamma sa che preoccuparsi non è un obbligo. È una responsabilità. E noi di chi ci preoccupiamo? Del paziente. Perché l'obbligo, purtroppo, non tutela necessariamente. Perché anche se c'è un obbligo, alla fine, nessuno si sente responsabile, per assurdo. E quindi è un obbligo, ma che non tutela. Al contrario, noi diciamo che la responsabilità difende il diritto alla salute. Diritto costituzionale. Cioè, non è quindi, rompo una spada a favore del sistema Italia. Noi abbiamo il diritto alla salute, non il diritto alla terapia. È questo che cambia tutto. Dopo noi parliamo, perché c'è una slide apposta. All'esplosione si prende cura. Questa moda del prendersi cura non l'ha inventata mica l'Italia. L'ha inventata il mondo greco. Quando inventò la parola medomai, che vuol dire medicina. Quindi quando diciamo educazione continua in medicina, dice sì però io non faccio medicina, io faccio il chimico, faccio il biologo, faccio altro. No, medicina vuol dire prendersi cura. Cioè, educazione continua prendersi cura di quello che fai, della tua attività, della tua professione. Punto. Non è che la medicina invece è diventata medica, cioè sanitaria. Vuol dire prendersi cura. Allora, il dossier diventa anche lui un eclisse o, al contrario, dopo una pioggia acida che subisco, può diventare la luce di una progettazione nuova. Apre questo buio di dire, ma cosa mi serve? La metto in una scatola, la tengo stretta come tutte le cose preziose, la luce che ci può dare la cultura. Ma torniamo lì, ma obbligo responsabilità. E se guardo questa donna, ma, non mi convince tanto l'ICM. Però, ma, torna la domanda. Perché? E perché dossier? Che se non sto attento, forse mi faccio anche male, perché se non sto attento, forse poi un domani diventa una sanzione in più. Adesso non è obbligatorio, ma domani? Perché? Ma perché ancora di più? Perché mi deve interessare? La risposta è una slide che ho scelto per voi. Mi obbliga a progettare. Ma questa donna chi è? Guarda qualcuno che deve tornare, perché non è ancora tornata la barca, il tramonto, o al contrario è lei che dice voglio andare là? Domani parto. Progetto dove voglio andare. E quello l'abbiamo visto anche oggi, se non oriento, vado a caso. Invece c'è teoria pratica, formazione, aggiornamento e l'esperienza, là da solo il tempo. Ma se io anche faccio 30 anni di professione, ho creato la mia esperienza. Ma io faccio sempre così, ma io sono uno che sa fare, ho esperienza. Sì, ma su che basi? Perché hai trovato qualcuno che dice che va bene? No. È un'altra professionalità, lo vediamo dopo. La parola professionalità è molto più profonda di dire fare un lavoro. E parlando del dossier ci tengo a precisare che è un orgoglio italiano. Perché se io prendo un marmo di Massacarrara, lo vedo così, poi domani qualcuno ha avuto la capacità di fare così. Ma come? Mi chiedo. C'era un marmo, qualcuno l'ha visto e ci ha visto questo. Vuol dire che lui, andando nel dettaglio, e adesso guardate sotto il collo, la delicatezza di questo manto, vuol dire che Michelangelo l'ha pensato. Perché il marmo va in sottrazione quando si fa una scultura, non in aggiunta. Io continuo a togliere. Quindi da un masso qualcuno ha pensato le forme, le proporzioni e che cosa voleva fare. Allora dico, il dossier è uno strumento, perché mi permette di sfrondare, di ripulire e di scegliere le proporzioni della mia cultura. È l'unico in Europa, ce lo stanno copiando. I paesi anglosassoni che stanno facendo formazione a go-go di, tra virgolette, tanto offerta formativa. Ma ognuno fa quello che vuole e non hanno un obiettivo. Stanno copiando il dossier. Genio italiano, siamo noi che pensiamo che da quel masso si può fare qualcosa. Solo il genio italiano poteva pensare che cos'è il dossier form attivo, che ha un suo battito. Un povero radicardico. È un pochino... Perché? Perché non l'abbiamo capito. Continuiamo a non capirlo. Ma i provider in sala hanno un'occasione d'oro. Chi è docente, chi è responsabile scientifico, può veramente progettare. Ma attenzione che quella riga gialla non va dall'alto verso ancora l'alto. Parte dal basso. E cioè dove? Cosa intendo col basso? L'errore. È inutile che continuiamo a fare cultura dove sappiamo già lavorare bene. I corsi sono sempre gli stessi. Tutte le stesse cose. Tutti a dire che bravo, che sono però... Non serve. Vuoi provare, elaborate progetti nuovi. Sull'errore, sulla mancata di agnosi, sul recupero delle competenze che non ci sono. Chiedete ai corsisti che cosa non sai. Vedi se noi che cosa chiediamo? Dimmi che cosa vuoi fare. E cosa dice chi vuole fare i corsi? Questo, questo, questo. Ti dice le cose che vuole. Dove si sente forte. Perché nessuno sceglie là dove è debole. E allora subentra la signora depressione. Dove lui, pian pianino, lei si arrabbia, perché anche la donna si era triste con un uomo così, e alla fine il paziente paga il conto. E quel dossier formativo che era già bradicardico, sotto punto, tira una riga dritta e se ne va. Allora il rischio è questo, ci facciamo abblacciare dagli obblighi e invece non dobbiamo farci bloccare. Ma quali obblighi? L'Europa. Perché sento dire, ma scusa, perché voi che siete delle ICM, sempre voi, no? Ma 150 credit? Perché non sono 100? Perché non 80? Perché proprio 150? Scusa un attimo. Ci sono i maschi in sala. Chi guarda la Champions sa che la squadra è fatta di 11 giocatori. Non è che tu dici, ma in Italia ne facciamo 10, facciamo una Champions con 8, sono 11, giochi con 11, oppure non giocare. Ma il libero professionista che va a lavorare in Svizzera o che viene da noi sa che le regole sono europee, non è l'Italia. Eccolo l'articolo 32, diritto alla salute, notare diritto alla salute. Io sono fiero, quando vedo questa cosa dico, cacchio mi viene i brividi. Se sto male qualcuno mi curerà e non mi dice, scusi ma quanto guadagna? Scusi, lei l'assicurazione la copre? Mi fa vedere il conto corrente perché sa, lei adesso costa lo Stato, non ce lo chiedono. Quindi, diritto alla salute non è il diritto alla terapia, è molto di più. E la salute non è, siccome non sei malato, non mi interessi, no. Ma tu non stai bene, ma non hai detto che sei malato per star male. Quindi la salute come concetto è molto più profondo. Decreto 502, andiamo avanti. Legge 244, andiamo avanti. Legge 148, è qui che viene fuori il concetto della sanzionabilità. Questi sono obblighi di legge, eh. E chi oggi è un medico in sala? Obbligo deontologico, l'articolo 19 e 21. E cosa dice l'articolo 19? Leggendolo, scopo che l'ICM non l'ha fatto l'ICM, l'ha fatto l'ordine. Il medico nel corso della vita professionale persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche e non tecniche. Oggi, in questo momento, noi stiamo elaborando una competenza non tecnica e stiamo facendo formazione continua. Ma dico, ma l'ha detto l'ordine? L'ha detto il codice? No, l'ha detto uno che si chiamava Ippocrate. E l'articolo 6, competenze, efficacia e proprietezza, bisogna aggiornarle con una costanza e verifica. Allora non è che l'ha inventato l'ICM, la verifica dell'apprendimento. Perché pensavo fosse colpa dell'ICM. Ma no, è già inserito nel codice. Allora forse la domanda è la coscienza. La coscienza che spesso è così, è grigia. E ha bisogno ogni tanto di una bella pompata per dire, ah sì, in effetti è vero. Perché la coscienza comunque c'è sempre, la possiamo anche dimenticare, ma è quella che fa la differenza tra un comportamento e un altro. Tra una scelta di un obbligo e una responsabilità. Perché l'obbligo del paziente è che si fida di noi, si affida la propria patologia. E ha un desiderio di salute, non un desiderio di guarigione. Perché può anche non essere malato. Chi di noi ha in casa qualcuno che non sta bene, normalmente in Italia è uno su quattro, una famiglia più o meno ha uno di noi che non sta bene in famiglia. Tutti noi qui in sala abbiamo qualcuno che in famiglia non sta bene. Bene, è un obbligo etico, non c'entra l'ICM, non c'entra il codice, è un valore. Se è rimasto stabile il valore e se siamo ancora attaccati alla coscienza. Sempre se il cuore appunto della mission continua a mantenere che tempo da dedicare alla formazione è un obbligo etico. Altrimenti ecco la signora depressione che questa volta è femminile. Puoi anche buttare tante bottiglie con dei sogni e delle aspettative, con degli SOS, ma chi è grigio rimane grigio. Ha bisogno di scrollarsi di dosso gli obblighi e di entrare nell'altro concetto. Fatti abbracciare la responsabilità e allora creerai una relazione tra te e il tuo paziente, tra lei e lui. Aggiornamento e formazione, siamo ancora lì. Una complicità però non deve essere ti do un bacino sulla fronte. Ecco quello che aveva detto la dottoressa Federica, quando diceva forza erotica del desiderio. Non vuol dire porno, vuol dire eros, cioè amore, ma ci deve essere complicità tra aggiornamento e formazione. E allora la domanda è ma voi siamo innamorati? Altrimenti inevitabilmente c'è tristezza, il lavoro ti piace sempre meno e la cultura, l'ECM diventa devo anche fare l'ECM, non ti amo, non ti penso, non ti cerco più e alla fine qualcuno ha tradito. Una coppia si lascia, non è mai colpa di uno solo, è colpa di tutti e tre. Non è bello che ridete però, eh? Sì, perché di solito uno che ride ha capito la battuta, eh? Però in realtà è così. C'è sempre qualcuno che dice ma chi è che ha tradito? Eh la domanda è sempre lei, è la coscienza che ha tradito. Non è che dobbiamo dare nome e cognome, comunque è lei, quella parte che hai dentro, che non ha risposto a se stessa. Allora dice ma io vorrei ancora rinnamorarmi, come devi fare? Aumenta l'attenzione, aumenta il valore del dossier, ma attenzione non è un narcisismo che ti guardi negli occhi e dici sì però sono un bravo professionista, sì però io sono uno che ha sempre studiato, sempre fatto, insomma ti compiaci. Come questa bellissima frase, ti volevo dire che se ci potevamo vedere è per innamorarci di me. Film anni 70 in cui evidentemente lei dice, cosa mi tirai prima a fare? È come se aggiornamento dice, senti ma ti innamori di me? No, torniamo sempre lì. Allora un altro film molto bello, qui è il passaggio in cui tu ancora parli alla tua coscienza piccola, ma è molto bello questo film in cui Troisi dice mi sono innamorato e lui dice bueno, non è molto grave, c'è un rimedio. Ma lui dice no, 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 non voglio rimedio, io voglio stare malato. Perché? Perché amare qualcosa per forza ti brucia, non sei, come dire, non puoi non essere toccato se ami quello che fai. Quindi è in fondo bello essere malato d'amore. E arriviamo a questo quadro perché due parole se le merita. Continuiamo a vedere questo simbolo e nessuno sa che cosa vuol dire. È un quadro del 600 in cui quel personaggio col cappello si chiama Dottor Tulp, ma in realtà si chiama Dottor Petersun. Siamo nell'Olanda del 600. Questo personaggio si dice sono così bravo che cambio il mio nome e va in comune e dice io da oggi mi faccio chiamare Dottor Tulp, cioè il top. Dottor Petrolio, Dottor Platino, Dottor Diamante. Deve però fare un quadro su se stesso. Trova un cadavere eccellente che si chiama Adrian Kind, un borseggiatore di professione. Lo beccano, lo ribeccano, gli tagliano una mano che poi viene riattaccata nel quadro e decide di farsi fare un quadro che racconti la sua competenza. A questo punto un pittore sconosciuto, tal Rembrandt, viene ad Amsterdam e decide di fare questo quadro nella sfida di dire io diventerò importante, dice Rembrandt. E ha avuto ragione. E tu, che sei Dottor Tulp, sarai pennellato dal mio genio. Esce questo quadro. Ma la cosa più bella del quadro è che nessuno guarda le mani dell'anatomopatologo. Dove sta guardando? In fondo, in basso, a destra c'è un libro aperto. Ecco perché è stata scelta la leccea. A me non so chi la scelta, però dico bravo chi l'ha fatto. Perché mette insieme pratica e teoria, pratica e teoria. Cioè devo studiare e poi vedere la pratica. Ma c'è la persona più bella del quadro che è quell'omino, dietro l'uomo col cappello, se lo vedete, è in fondo e ha in mano i suoi appunti. È l'unico che ha portato il suo elaborazione pratico, teorico, per trasformare in quel momento quello che sono i suoi appunti con quello che sta guardando dal vivo. Questa è la vera ECM. Che non vuol dire toccare i libri o sfogliarli. Vuol dire maneggiarli. Questa è la cultura. Maneggiare, anche sbagliare ingredienti, se vuoi essere professione sanitaria, la quale richiede competenze che non sono in vendita. Scusi vorrei un po' di competenze. Non c'è la ricetta. Ecco cos'è allora il dossier. Lanciare in avanti l'aggiornamento. Progettare dove tiri la pallina. Indirizzare il tuo aggiornamento. Questo i provide hanno un'enorme potenzialità. Dove? L'abbiamo detto prima. Sono tre direzioni che in pratica vuol dire questo. Se vuoi alzare il livello della tua professione, smettila di continuare a fare sempre le stesse cose. Continuare a fare sempre tecnico-professionale. La vera forza del dossier è che ci dà due nomi nuovi. Processo e sistema. È lì che dobbiamo vedere. Ma quali sono gli argomenti tecnico-professionale? Li sappiamo. Ma quelli invece di sistema e di processo? Allora poco poco dividiamo la cultura su tre fronti. Liberando le abitudini che sono quelle che ti cartocciano la mente. Sempre, sempre, sempre così. Allora tracciare una rotta vuol dire avere il coraggio di sapere dove si è. Guardando negli occhi la coscienza. Allora quello che diceva prima Teresa Farsini. Non è che tu tiri il cubo e si fa fatto. Ci metti le mani, sbagli e impari. Ma se voi lo proponete ai vostri discenti. Dottore, abbiamo un progetto. Risolveremo il dossier formativo insieme. Abbiamo pensato che... Ma dovete chiedere quello di cui ha veramente bisogno il professionista. E poi chiederà al paziente che cosa vuole veramente il paziente. Perché se dimentichiamo il paziente e parliamo solo di far bisogni formativi in modo a freddo, non si forma niente. Guardate questa immagine. Se io la guardo così e dico a voi che cosa ci vedete? Vedo un bottone, una scala, una luce. Non riesco a vedere niente. Non riesco a vederci niente. Se io la ingrandisco un po' in questo contesto, di colpo vedo la Mona Lisa. Quindi qui opportunità di apprendimento vuol dire vedo tanti eventi ECM che non avevano senso. Ma se io li metto insieme prima, viene fuori un quadro. Questa la dedico alla dottoressa Ugenti. Perché l'ECM non è l'obiettivo, è uno strumento, è la frase dell'anno 2018. Nel senso che ha pensato che in una frase che io poi le ho rubato c'è dentro tutto. Se pensiamo che l'obiettivo è l'ECM come crediti, cioè faccio la raccolta punti, alla fine non cambierà niente del mio comportamento. Niente. Se invece considero che tramite le nuove modalità formative, tramite il dossier formativo di gruppo individuale, quello che è stato adesso, posso mettere a servizio l'ECM. Cioè uno strumento. È come un pianoforte. Un conto è toccarne i tasti. E ho tanti crediti. Sono a posto con l'obbligo formativo. Un conto è suonare. Sempre i tasti suono. Solo che io ho pensato quale suonare e in che armonia suonarli. Riempirò i cassetti delle competenze, che sia libera, professione o dipendenza. E allora può essere una pallina che scorre da solo, dossier individuale, che va benissimo. O un gruppo che spesso è più appassionato, magari ti porta ad affare di più. La dirigenza che diceva prima Teresa Falsini. Quindi la coscienza ti dice, devi cercare, se sei al comando, di far decollare lo stile di gruppo. Che è il futuro. Cioè orientare tutti insieme verso una melodia di tanti strumenti, tanti progetti aziendali, dove gruppi di professionisti suonano, ognuno il suo pezzo, ma alla fine tu senti una sinfonia. Eccolo ancora il ragionamento e formazione. Una sperimentazione. Come può accadere che si rompa? Ma in questa fase non importa le percentuali perfette. Importante è sperimentare. Tanto ho notato la lampada dove siamo qui è esattamente la stessa. Quindi per un caso ho scelto un'immagine dove si rompe ma si rimette. Puoi sbagliare, puoi rifare. Non hai l'obbligo di raggiungere un risultato. Come ci insegnano i migratori. Prima di partire, io a Roma, quando sono andato in stazione, mi hanno detto non passi sotto gli alberi perché è rovinato. Non capivo con franchezza, scusacenza, da me a Bergamo non ci sono gli uccelli migratori. E dopo l'ho capito. Era una roba allucinante. Ecco, quando si muovono nel volo, fanno così. Perché fanno così? Sperimentano una partenza. Prendono una posizione in volo. E allora occorre dare una decisione. Ma Walt Disney l'aveva già intuito. perché Alice, un bivio, dice allo stregato che strada devo prendere? Lo stregato gli dice ma dove vuoi andare? Non lo so esattamente, dice Alice. Allora non ha importanza che strada scegli. Alice si accorge di essersi persa e si trova nel labirinto. Cosa vuol dire? Che se noi non abbiamo una direzione, vai a caso, si va dove si porta l'ICM, cioè i crediti? Vado a fare formazione dove mi danno tanti crediti? No, l'ICM non è l'obiettivo, è lo strumento. L'ICM è una macchina che se la compro, non la metto in garage. Mi porta a viaggiare. E allora siamo arrivati alla fine. Analizzami perché. I limiti. Ti sei addormentato? La professione è un po' spenta? Hai messo il dito nelle tue mancanze? Sai quali sono i tuoi punti deboli? Stai barando col tuo aggiornamento? Conosci gli obiettivi? Abbiamo visto, secondo me, no. Non sappiamo quanti sono. Ma vai alla ricerca del perché. Oggi il Ministero dice se fai questi obiettivi ti do più crediti. Ma allora, scusi, siamo stupidi a non seguire le indicazioni del Ministero. Perché allora io dico, se fosse un provider, scelgo, senza guardare i contenuti, dove posso fare tanti crediti e ha comunque vincente. bonus, crediti, non è quello il passaggio. Ma se vado alla ricerca del valore che è stato scelto sull'obiettivo nazionale, forse capisco che veramente può cambiare il progetto. Benigni, lo dice lui, iniziare un nuovo cammino ci spaventa, ma dopo ogni passo ci rendiamo conto di quanto fosse pericoloso rimanere fermi. E ancora, grande Albert, follia a fare la stessa cosa, aspettando risultati diversi. Quindi parto e non mi fermo. Ma sono una decina di slide. Dove trovo le motivazioni? Quelle che mi fanno combattere la mia inedia, la mia abitudine, il mio disinteresse. Dove trovo le risposte? Perché allora questo ECM, che lo vedo un po' alienante, mi fa una domanda. Ma tu che responsabilità hai? Ecco perché ci dà fastidio l'ECM. Perché sotto sotto l'ECM ti chiede, ma tu sei un professionista? Sei un professionale? Perché se io anche sono bravo, ma non faccio crediti, comunque lo Stato può dire davanti a un giudice. Lei dottore è bravissimo, però perché non ha fatto l'ECM cosa gli si va a dire? Allora, la professionalità vuol dire promettere quello che si è detto a voce. E' molto bello come parola. E' una parola greca che vuol dire te lo dico prima quello che farò. Ti dico oggi quello che farò domani. Allora dipende dalla promessa. Questo anello del tesoro dove va? Perché se sbagli a prendere il tesoro, finisce che ce l'hai in mano. E ti dura un secondo. Quindi le risposte sono nella coscienza. Quella che forse dobbiamo andare a riscoprire tutti. Quella che forse un ECM come questo, pian pianino, diventa una persona che ci vuole guardare negli occhi, fino a che ci fa ammicamente, dicendo ma sono ancora con te, ci prende per mano. E a questo punto attiva le migliori energie. Fino a dire una storia con un bel finale. E vissero felici e contenti. No. Non è proprio così. Il finale è così. Vivranno felici e contenti. E questa coppia, che tanto non ci sente nessuno, sta cercando di avere figli. Lui e lei. Ma in questo momento comunque hanno fatto una scelta diversa. E hanno deciso di adottare due bambini. Una femmina e un maschio. La femmina si chiamava Adelia. Però la nuova coppia gli ha dato un nome diverso. Siccome abbiamo visto nella slide la Federica Paniconi, che aveva citato questo passaggio molto bello, l'hanno chiamata Federica Adelia. Ma la chiamano tutti FAD. Perché è il futuro. Ma anche lui però, anche il bambino, che è un piccolo, ma guardate che sguardo ha. Che cosa fa? Va sempre sui social, sempre su web. L'hanno chiamato webinar. Per forza. E quindi, cosa impariamo dai bambini? Quindi questo, ogni attimo, è un posto dove non siamo mai stati. E allora sì, questa è la responsabilità di orientare quell'attimo che questa goccia professionale cada nel territorio che ne sa avere frutto. E quindi, questo era. Grazie per l'attenzione. Viva l'Italia! Grazie.